Ha perso i 16 bambini, ma è finita in carcere. Si chiama Maria Pridmo, 35 anni, avrebbe rivendicato il denaro per due dei suoi figli morti. La donna avrebbe portato a termine per andare a vivarsi quella di scena o nel figlio appena nato, Chia. I bimbi però sarebbero morti poco dopo. Il sistema sanitario inglese prevede dei risarcimento per le donne che subiscono tali perdite. Se la donna avrebbe truffato il sistema, si sarebbe fatta risarcire i 17.000 sterline per la perdita dei figli nati. Maria avrebbe dichiarato di essere una donna singola, senza correddito, ma in realtà viveva in compagnia dell'uomo e del suo tradizionato compagno. La donna avrebbe avuto il suo primo aborto all'età di 19 anni e negli anni avrebbe continuato a rimanere incinta e a perdere i suoi, a prendere i suoi bambini. Però la sentenza è stata in pietro di fardone, infatti sarebbe stata condanna. Grazie per l'ascolto, un saluto a presto e buona sera.